Siamo a 41.007 positivi con un incremento di 1.592, quindi ce lo diranno ancora loro oggi, il dato non può essere considerato giorno per giorno, questo è un dato che oggi si riduce, ieri eravamo a più 2.100, oggi più 1.600, quindi un dato che evidenzia una riduzione. Il dato dei ricoveri 11.613, qui c'è invece un aumento, però alla fine ne dovremo fare una valutazione più ampia e strutturata, 461 rispetto a ieri, il dato delle terapie intensive siamo a 1.328 e quindi siamo a più 9 rispetto a ieri, i posti in terapia intensiva, pensate oggi mi dicevano che abbiamo superato ampiamente i 1.600 posti letto di terapia intensiva, siamo partiti da 724 e siamo arrivati a 1.600 posti letto di terapia intensiva, qualcosa che non ha veramente paragone, io penso, in nessun altro sistema sanitario, abbiamo una capacità di andare non solo di raddoppiare, ma siamo oggi praticamente al 135-140% dei posti letto di terapia intensiva. Continuano fortunatamente a crescere anche le persone dimesse, siamo oggi a 9.255, quindi più 303 persone che sono state dimesse, o forse scusate 293 persone che sono state dimesse, continuano a crescere anche le persone che almeno ci hanno lasciato, i deceduti, siamo oggi a 6.360 più 416, l'ultimo dato che migliorerà purtroppo, ma è fisiologico, è proprio il dato dei deceduti, grazie a tutti.